Mamme in rivolta all'asilo comunale di Prestino dopo il devastante raid compiuto dai vandali nella notte tra sabato e domenica. Pesante la conta dei danni, una finestra distrutta, il locale infermieria preso particolarmente di mira e messo letteralmente a suo quadro, armadietti e scrivanie danneggiati, alcuni apparecchi elettronici rubati. Increduli i genitori dei circa 40 bambini che frequentano l'asilo, anche perché non è affatto il primo caso simile nel recente passato. Più volte, ad esempio, sono stati presi di mira i contatori all'esterno della struttura, lasciando i locali al gelo anche in pieno inverno. L'ultimo raid però rappresenta la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, tanto che oggi circa 30 bambini su 40 sono stati tenuti a casa dalle famiglie come segno di protesta. Questo in attesa che domani pomeriggio venga anche effettuata una radicale bonifica sanitaria degli ambienti con le tracce dei devastatori. La protesta non rischia soltanto di ripetersi anche domani mattina, ma soprattutto ha radici ben salde nel recente passato. Andato in pensione due anni fa l'ultimo custode comunale della struttura, il Comune non ha mai individuato un sostituto per Prestino, nonostante le ripetute richieste inoltrate in municipio dalle famiglie. Nelle prossime ore, tramite l'interessamento alla vicenda della consigliera comunale Roberta Marzorati, è probabile che i genitori incontrino gli amministratori. Di sicuro ha già dato la propria disponibilità all'assessore al patrimonio, Marcello Jantorno, che si occupa nello specifico anche della gestione dei custodi. Sono pronto a incontrare al più presto la delegazione dei familiari, dice Jantorno. Per quanto riguarda l'assenza del custode da due anni, tengo però a precisare che la sostituzione non è avvenuta perché i locali non sono a norma, ma di questo si deve occupare il settore lavori pubblici e non il mio. ...delle gare che saranno fatte perché tutti gli immobili vengono venduti attraverso gare.